Signori, shalom a tutti, siamo in questo momento registrando, vi ringrazio molto della vostra partecipazione e siccome abbiamo abbastanza esaurito l'argomento del Ramchal che abbiamo trattato tutto quest'anno e domani purtroppo non ci sono, pensavo appunto di anticipare l'argomento che avrei trattato prima di Shabbat parlando come al solito, dividendo il nostro incontro in due parti, la prima dedicata a una teshuva di stagione sugli argomenti legati all'estate e nella seconda parte parlare di qualche spunto della parasha della settimana che è una parasha molto ricca, questo Shabbat. La scorsa settimana, a proposito della Allahah, avevo parlato della tefilata d'Erech, se vi ricordate, cioè della priera che si deve recitare prima di intraprendere un viaggio e avevo fissato dei parametri, in particolare avevo detto che si calcola la tempistica prevista dalla Allahah nella percorrenza di 4 chilometri come distanza minima per giustificare la recitazione della tefilata, dicevo oggi la si interpreta per lo più come un'indicazione di tempo e non di spazio, secondo le misurazioni, i calcoli dei nostri Chachamim per percorrere 4 chilometri una parsa, che probabilmente è una parasanga degli antichi persiani, ci volevano 72 minuti, 18 minuti per ciascun miglio o chilometro. La Allahah prevede che la distanza minima da coprire per poter giustificare la recitazione della tefilata d'Erech, se vi ricordate, è un viaggio di almeno 72 minuti a prescindere da quello che sia il mezzo di trasporto adoperato. Mi è stato a questo proposito fatto una scela importante ed interessante, se la stessa regola vale anche per la birkata gomel, cioè la benedizione di ringraziamento per scampato pericolo, da recitarsi al terminato il viaggio. Cioè se la regola è la stessa per la tefilata prima del viaggio e per la birkata di ringraziamento dopo il viaggio. E su questo c'è una differenza fra sefarditi e ashkenaziti a proposito della birkata gomel. Mentre tutti sono d'accordo sulla tefilata d'Erech, come ho spiegato prima, sulla birkata gomel c'è invece una differenza di tradizione. lo shulchanaruch dice a questo proposito che v'ashkenaz v'zarfat en mevarechim che seholchim meir leir. A proposito della birkata gomel, della benedizione dopo il viaggio, lo shulchanaruch dice che gli ashkenaziti non recitano la birkata quando si spostano da una città all'altra. perché l'obbligo vale soltanto per coloro che attraversano i deserti dove si possono trovare pericoli concreti come gli animali feroci o simili. Andando da una città all'altra in Europa questo problema già allora, già nel Medioevo, non sussisteva più di tanto. lo shulchanaruch aggiunge uvi sfarad en mevarech invece in Spagna i sefarditi hanno l'abitudine di recitare la birkata gomel anche al termine di un viaggio da una città all'altra ripenesche kola derachim behezgatzakana perché? Perché ci si basa su un assunto del Talmud di Rushalmi ripreso dal Rambam, ripreso dal Maimonide il quale dice che tutte le strade in realtà possono comportare un pericolo. In pratica quindi, secondo lo shulchanaruch per i sefarditi vale per la birkata gomel la stessa regola che vale per la tefilata derech per tutti e cioè che una volta che si compie un viaggio anche in Europa tra una città e l'altra per più di 4 km cioè per un tempo di percorrenza superiore a 72 minuti come si è tenuti alla tefilata derech così si è tenuti anche alla birkata gomel al termine del viaggio. Questo vale, dicevo, per i sefarditi. Gli ashkenaziti, invece, riconducono la regola della birkata gomel alla prescrizione originaria. Qual era? Lo shulchanaruch dice all'inizio della sua trattazione che sono solo quattro le persone che devono recitare la birkata gomel per scampato pericolo e cioè chavush bevetasor veyatsah e colui che si sia trovato in prigione e sia stato successivamente liberato. Le iniziali che lo shulchanaruch ricorda di queste quattro espressioni formano la parola khayyim chavush, che significa colui che è stato in prigione, misurim, colui che ha avuto quelle sofferenze della malattia, yam, che significa mare, e midbar, che significa deserto. L'espressione che lo shulchanaruch riporta è quella dello shemonesre che tutti quanti conosciamo vechol achayyim yoduchasela. Tutti i achayim, cioè quelli che appartengono a queste quattro categorie, ti devono ringraziare, ma soltanto questi. In pratica, quindi, secondo gli ashkenaziti, la tefilata d'Erer si recita in ogni caso che si viaggi al di sopra di quattro chilometri, mentre la birkata gomel viene recitata per un viaggiatore soltanto se ha attraversato il mare e il deserto. Questo vale oggi anche per un viaggio aereo, naturalmente, che attraversi questo tipo di territorio. I sefarditi, invece, come dicevo, recitano la birkata gomel in tutti i casi di trasferimento da una città all'altra per più di quattro chilometri, esattamente come fanno tutti per la tefilata d'Erer. Come ci collochiamo noi italiani? Ho fatto una ricerca su questo argomento, ma non ho trovato granché. Gli italiani sotto questo profilo si comportano come i sefarditi o gli ashkenaziti. Diciamo che non ho mai sentito nelle nostre comunità recitare la birkata gomel per un viaggio da una città all'altra sia pure superiore a quattro chilometri. Normalmente la birkata gomel viene appunto recitata anche da noi soltanto per viaggi particolarmente impegnativi. In più, anche fra i poschim sefarditi del giorno d'oggi, il Rav Chaim David Alevi di Tel Aviv, citando nel suo Mecor Chaim le Alachot dello Shulchan Aruch, aggiunge poi un commento che dice che anche il Maimonide, quando parla di Olchei de Rahim, di viaggiatori in genere, quindi anche semplicemente da una città all'altra, come tenuti alla birkata gomel, si riferisce a percorsi interurbani ma intervallati da luoghi solitari dove i pericoli potevano effettivamente essere in agguato. Il Rav Chaim David Alevi dice che al giorno d'oggi non è necessario neanche per i sefarditi recitare la birkata gomel a ogni spostamento da una città all'altra. La regola, quindi, è diversa dalla tefillata derech che prevede la recitazione della medesima anche nel caso di uno spostamento dalla città all'altra per una distanza superiore a quattro chilometri. Qual è la differenza essenziale fra la tefillata derech e la birkata gomel? La tefillata derech è una baccashà, è una richiesta prima dell'esperienza e quindi noi la richiesta la inoltriamo comunque prima di intraprendere il viaggio. Ma la birkata gomel la recitiamo soltanto se a posteriori come todà, come atto di gratitudine, di ringraziamento a Kadosh Baruch Hu, solo se la situazione di pericolo è stata effettiva. Questa è un po' la questione. L'argomento che volevo trattare oggi sul filone delle alachot di stagione è relativo ad un'altra berachat. La Mishnah dice nell'ultimo capitolo di berachot si parla delle berachot che i nostri chachamim hanno stabilito per la vista di spettacoli naturali particolari. A questo proposito va detto che siamo abituati a recitare la berachat sul cibo e quindi sul senso del gusto. Ci sono delle berachot che recitiamo anche sui profumi, sul senso dell'odorato. Ci sono delle berachot che recitiamo quando apprendiamo una buona o una cattiva notizia e questo riguarda l'udito. Ci sono delle berachot anche che si recitano quando si vedono delle cose particolari. Di che cosa si tratta? La Mishnah dice fra le altre cose. Dicevo appunto nel capitolo 9 di berachot Sulle montagne, sulle colline, sui mari e sui fiumi e sui deserti quando li si vede si dice la berachat in cui si ringrazia Dio creatore dell'opera della creazione. La domanda è qual è l'estensione di questa berachat al giorno d'oggi? Se io vado per esempio in vacanza sulle Dolomiti o in Val d'Aosta alla vista del Monte Bianco posso recitare, pronunciando il nome di Dio, questa berachat? Questa è un po' la domanda. Abbiamo visto che cosa dice la Mishnah in proposito. I commentatori naturalmente restringono il campo e dicono ma veramente alla vista di qualsiasi montagna noi recitiamo una berachat di ringraziamento a Kadosh Baruch Hu punto di domanda la Shulchan Aruch stabilisce la Allah riportando la Buddha Arham che è un compilatore delle tefillot vissuto nel Medioevo il commentatore delle tefillot il quale dice che soltanto sulle montagne che siano meshunnim dice la Shulchan Aruch letteralmente che siano particolari che ricordino la Gvurat Abore che ci ricordino la potenza del creatore questo è quello che lo Shulchan Aruch dice restringendo quindi il testo della Mishnah quindi è evidente che non su qualsiasi montagna ci troviamo di fronte recitiamo la berachat ma soltanto su montagne che abbiano qualche cosa di particolare che ci rammentino alla loro vista la forza e la potenza di colui che le ha create a questo punto i commentatori dello Shulchan Aruch sollevano altre due riserve che cosa si intende qui per meshunnim cioè per montagne strane letteralmente molti aharonim molti decisori posteriori allo Shulchan Aruch ritengono che si intenda una stranezza in altezza e cioè che la berachat possa essere recitata soltanto alla vista di montagne particolarmente alte e questo riduce notevolmente il campo di azione della berachat stessa cosa si intende per esempio se io vado nell'Himalaya o al limite in Europa se vado a vedere il Monte Bianco secondo questi poschim questi decisori la berachat in questi casi deve essere recitata cosa dire a proposito delle Dolomiti le Dolomiti non sono particolarmente alte non brillano in altezza mi risulta che la marmolada che è la regina delle Dolomiti sia più sia più bassa del Rocciamelone per esempio arriva a 3300 e qualcosa metri sul livello del mare quindi non un'altezza stratosferica che da questo punto di vista ci possa ricordare la forza del creatore però le Dolomiti hanno in realtà questa potenza da un altro punto di vista e cioè non per l'altezza ma per la forma particolare delle loro vette delle loro cibo e dicevo non secondo tutti i decisori ma ci sono anche colori coloro che intendono Meshunnin in un senso più largo secondo loro non si intende necessariamente soltanto l'altezza ma per qualsiasi montagna che per la sua forma ricordi a chi la vede la potenza di Kadosh Baruch Hu giustifica la recitazione della Berakha questo è un argomento ce n'è un altro ancora più interessante da un certo punto di vista e cioè la Berakha dice ringraziamo Kadosh Baruch Hu creatore dell'opera della creazione si osserva che in particolare le montagne italiane non sono non sarebbero un'opera che risale all'epoca della creazione perché non per motivi scientifici o geologici naturalmente il motivo che viene che viene invocato è un altro ed è che la città di Roma secondo un Midrash sarebbe stata creata posteriormente in una certa situazione il Malar Gabriel avrebbe gettato una lancia in mezzo al mare e avrebbe fatto sorgere un'isola dalla quale sarebbe nata la città di Roma è un Midrash che richiederebbe un approfondimento per conto suo naturalmente magari un giorno lo faremo lo cito qui soltanto per dire che secondo la concezione dei nostri maestri non soltanto la città di Roma in se stessa ma tutta la zona di Roma e quindi anche l'Italia e le sue montagne dando retta a questo Midrash non sarebbero un'opera dei sei giorni della creazione bensì Dio l'avrebbe realizzata posteriormente e quindi sostengono i poschimi in questione che le montagne italiane che sia il Monte Bianco che sia che siano le Dolomiti non giustificano la Berachà per questo motivo perché non sono un'opera che risale ai sei giorni della creazione anche su questo in realtà c'è chi obietta si può obiettare benissimo che l'opera della creazione in realtà non è mai conclusa non può essere ridotta soltanto i sei giorni originali noi recitiamo nella tefillah tutte le mattine che ringraziamo Dio a Dio che porta avanti l'opera della creazione ogni giorno ancora oggi non è mai finito questo lavoro e quindi quando parliamo di opera della creazione non dobbiamo per forza riferirci ai sei giorni originali inoltre l'aberrazione la videoregistrazione perfetto chiedo scusa c'è stato un intoppo riprendiamo cosa stavo dicendo stavo dicendo che l'aberraha che noi recitiamo in questi casi è scritta al presente e non al passato anche l'aberraha come il testo della tefillah che citavo prima dice non dice ma dice cioè benetto sei tu Signore Dio nostro e del mondo non che hai compiuto l'opera della creazione bensì che compi l'opera della creazione e questo può benissimo riferirsi ad un'opera naturale ad un'opera di Kadosh Baruchu anche eseguita dopo i sei giorni della creazione pertanto possiamo tranquillamente concludere che se una persona ha il desiderio il sentimento di recitare questa berraha alla vista del monte bianco piuttosto che delle dolomiti o di una montagna diciamo così di altezza o di forma particolare che gli ricorda la grandezza del creatore e dell'opera della creazione lo può senz'altro fare tanto più che non c'è un obbligo stretto di recitare per forza questa berraha comunque la berraha è dettata in questo caso dal sentimento e se il sentimento c'è non c'è nessun motivo di non farlo ricordo l'anno scorso di essere stato in Val d'Aosta e di aver visto il monte bianco da lontano in quel caso ero a una certa distanza e di aver recitato la berraha Osema Seber Rashid col nome di Gadosh Baruch Hu proprio per perché mi pareva giusto farlo e così in altre occasioni in altre annate ho fatto alla vista delle grandi cime delle Dolomiti anche se non sono particolarmente alte come dicevo prima questo per quanto riguarda la halakha per quanto riguarda la parasha della settimana abbiamo una parasha molto interessante la parasha di Korach uno degli argomenti e dei personaggi più controversi di tutta quanta la Torah Korach era un cugino primo di Moshe Rabbenu che per tutta una serie di ragioni che vedremo anche in parte oggi aveva ordito una ribellione nei confronti dell'autorità costituita da Moshe e da Aaron li aveva in sostanza accusati di essersi impossessati del potere con le loro forze e di guidare un popolo che era interamente formato da persone dotate di Kedushah e che a suo dire non avevano bisogno dell'autorità di Moshe e di Aaron insieme a Korach si erano associati alcuni componenti della tribù di Reuven e insieme a loro erano appoggiati diciamo così dall'esterno da un gruppo di 250 persone che li avevano coadiuvati in sostanza in questa mossa contro Moshe ed Aaron i Midrash ci sono molti i Midrashim su questo episodio Midrash racconta che questi questi signori si presentavano a Moshe ed Aaron vestiti interamente di tuniche azzurre e provocatoriamente domandavano a Moshe ed Aaron se secondo loro un tallet che sia completamente azzurro ha ancora bisogno del filo di lana azzurro agli angoli così come comanda la Torah era evidente che si trattava di una provocazione ma non soltanto in funzione delle persone di Moshe e di Aaron ma un attacco a tutto quanto il sistema Torah e questi personaggi vengono poi puniti e la controversia finisce in modo violento per l'appunto e soltanto i figli di Korach che inizialmente l'avevano appoggiato in articolo mortis in sostanza fanno teshuva e sopravvivono tant'è vero che in una delle prossime Parashot sono ancora ricordati in un versetto che dice che i figli di Korach non morirono la domanda è che cosa aveva portato queste persone a comportarsi in questo modo qual è il movente della loro azione e soprattutto qual è l'insegnamento che ne deriva per noi quello che voglio con voi fare questa questa sera è vedere l'episodio attraverso il commento di uno dei grandi maestri del chassidismo lo Sfat Emet di Gur diciamo che ognuno ha detto la sua naturalmente esaltando in Korach un difetto particolare che potesse fare da monito ancora per noi oggi nel Shavua Tov io piacendo la prossima settimana leggerete per esempio l'approccio di sforno alla questione lo Sfat Emet da un commento di carattere chassidico e vedremo subito di che cosa si tratta la ribellione di Korach era dovuta al fatto secondo lo Sfat Emet e Korach pensava che ciascuno dovesse avanzare soltanto per i suoi meriti personali soltanto per diciamo così un fatto esteriore e non riconosceva invece che l'avanzamento di una persona o la sua scelta da parte di Kadosh Baruch Hu potesse essere dettata da motivi differenti non dal fatto di emergere attraverso le sue azioni ma al contrario la capacità del candidato la capacità di questa persona lehit battel bichlalut israel di annullarsi nella collettività di Israele questo era stato il merito di Aaron ma Korach non lo voleva riconoscere Korach apparteneva ad una famiglia di leviti come dicevo e voleva anche la Keunah voleva salire di livello ed era convinto che per farciò potessero bastare i meriti i meriti della persona e infatti si lamenta e dice tutta la comunità è formata da singole persone che sono tutte quante dotate della loro Kedusha hanno tutti quanti i loro meriti in che cosa sbagliava? ci sono nella tradizione nostra due elementi che possono essere motivo di promozione per una persona o per un gruppo di persone il livello il livello diciamo così più basso è rappresentato da quello che noi chiamiamo dice lo Sfate Me'et Kir Va o Keruv la capacità di avvicinare avvicinare significa naturalmente far valere le azioni o i meriti delle persone esiste però un livello più alto questo livello più alto è rappresentato dalla Bechira la Bechira indica la scelta o la elezione se vogliamo ed è riservata in un certo senso a Kadosh Baruch Hu mentre la Kir Va è compito degli uomini la Bechira è compito o è un appannaggio diciamo così di Kadosh Baruch Hu l'altra differenza fondamentale tra queste due qualifiche è che la Kir Va non è innata la Bechira è innata la Kir Va si raggiunge attraverso la Tahara attraverso la purificazione della persona e la purificazione può essere una sua iniziativa può anche ricadere naturalmente nelle impurità in corso d'opera e quindi come non è garantita all'inizio non è neanche definitiva è qualcosa che è legata come dicevo prima ai meriti della persona o di coloro che gli stanno intorno la Bechira viceversa è legata al concetto di Kedusha la Kedusha che noi traduciamo impropriamente santità è qualcosa che è conseguenza di una scelta da parte di Kadosh Baruch Hu ed è innata nelle persone alle quali Kadosh Baruch Hu la destina questo Koach non lo voleva accettare sosteneva che si potesse diventare Koanim anche attraverso un'operazione di Kirva e di Tahara di avvicinamento e di purificazione come era stato fra l'altro per i Leviti i Leviti erano stati scelti in sostituzione dei primogeniti dopo il peccato del vitello d'oro e avevano partecipato a una cerimonia di purificazione che è stata descritta nella parasha che abbiamo letto due sabati fa nella parasha di Be'a'alotecha diverso è lo status dei Koanim i Koanim sono prescelti per Be'ira per scelta da parte di Kadosh Baruch Hu e questa scelta è innata e evidentemente irrevocabile non solo ma la Torah aggiunge anche che mentre i Leviti ad una certa età non troppo avanzata peraltro andavano in pensione i Koanim rimanevano in servizio per tutta la vita pertanto finché avessero avuto le forze fisiche determinati impegni qui si chiarisce ulteriormente la differenza fra i due gruppi e fra le modalità di scelta dei due gruppi a Koanim questo non andava bene Koanim era un meritocratico ad oltranza per carità nell'essere meritocratici a mio avviso non c'è niente di male al contrario nella misura in cui ci rendiamo conto però che non è il merito del singolo che costituisce per forza la chiave della sua promozione ma esiste anche un qualche cosa che viene dall'alto che viene da Kadosh Baruch Hu e in quanto tale si applica tendenzialmente a persone che abbiano la capacità dell'umiltà e la capacità dicevo dell'autoannullamento rispetto alla collettività rispetto alla Klalut perché ci sono degli elementi della Kidusha che derivano esclusivamente da questo all'inizio della Parashah di Bealo Teha due settimane fa era scritto che Aharon aveva acceso i lumi Vaya'as Ken Aharon dice il versetto esegui la prescrizione Omenta Rashi senza aver modificato nulla Loshina che cosa significa questo commento? Ci sono molte interpretazioni del commento e quella che lo Sfat Emet dice è che Aharon Loshina non ha modificato nulla di se stesso in quanto che la sua consacrazione era derivata da una scelta di Kadosh Baruch Hu riferita alla sua condizione prima ancora che nascesse questa espressione di Rashi chiarisce ulteriormente la figura di Aharon come progenitore di tutti quanti i Korani nel momento in cui viceversa ragioniamo come Korach e mettiamo avanti a tutto i meriti personali creiamo della Kina creiamo della gelosia la gelosia è all'inverso del Shalom naturalmente e il lo Sfat Emet si riferisce in particolare allo Zohar e dice che Korach aveva creato una controversia proprio sul concetto di pace e sul concetto di Shabbat lo Shabbat viene al termine dei sei giorni della creazione nei sei giorni lavorativi noi produciamo e acquisiamo dei meriti in quello che facciamo eccetera eccetera quando viene lo Shabbat noi annulliamo le nostre esigenze e la nostra personalità a fronte dello Shabbat che proprio per questo motivo è chiamato Shabbat Shalom perché perché lo Shabbat porta con sé l'annullamento di fronte al Klal Israele l'annullamento dei singoli con le loro esigenze dinanzi alla comunità di Israele Vaikach Korach dice lo Sfat Emet la parasha comincia con una strana espressione e Korach prese manca nel testo il complemento oggetto che cosa prese Korach i commentatori dicono l'Akkach et Atsmo prese se stesso per promuoversi a livello personale senza rendersi conto che esiste un livello di Kedusha superiore che è frutto soltanto di una Bechira da parte di Kadosh Baruch Hu non necessariamente in chi emerge ma in chi sa viceversa annullare se stesso attraverso attraverso il Klal Israele Sfat Emet va ancora oltre e dice che ragionando in questo modo Korach aveva messo in questione la modalità con cui Dio aveva creato il mondo perché il modo di ragionare di Korach per cui io valgo ciò che mi merito o merito ciò che valgo è una mentalità legata al concetto di DIN al concetto di giustizia e di rigore Korach da questo punto di vista esigeva una giustizia rigorosa a livello personale ebbene se andiamo indietro nella storia biblica al racconto della creazione sappiamo che Kadosh Baruch Hu avrebbe voluto creare il mondo attraverso la middata DIN ma si rese conto che la cosa non era possibile che occorreva passare attraverso il Chesed attraverso la bontà che viene distribuita nei confronti di tutti quanti è una bontà in un certo senso eguagliatrice equilibratrice il Chesed che è rappresentato proprio dai Kohanim nel momento in cui il DIN è rappresentato dai Leviim e dove vediamo questo? dopo il peccato del vitello d'oro i Leviim si mettono tutti dalla parte di Moshe Rabbenu e ricevono l'ordine di fare giustizia nei confronti dei trasgressori in maniera molto violenta il Kohen viceversa è quello che dà l'aberachà al popolo e compie i korbanot compie i sacrifici per far sì che il popolo possa avere l'espiazione dei suoi peccati il Levi rappresenta quindi il DIN mentre il Kohen rappresenta il Chesed ecco perché Korach non poteva evidentemente assurgere o assumere la posizione di Kohen partendo dai suoi presupposti nel momento in cui il Kohen dà l'aberachà è un Kli diventa uno strumento nelle mani di Kadosh Baruch Hu ci domandiamo tutti quanti ma che ragione c'è per cui la Birkat Kohanim la benedizione che Dio elargisce al popolo nei giorni festivi oggi una volta lo si faceva tutti i giorni debba passare proprio attraverso i Kohanim spiegano i nostri maestri e lo Sfat Emet fra di essi che il Kohen funge qui da Kli da strumento e cosa significa essere strumento significa evitare di ergersi al di sopra degli altri esattamente il contrario di quello che Korach intendeva fare essere strumenti significa autoannullarsi nuovamente di fronte a Kadosh Baruch Hu e la parola Kli osserva lo Sfat Emet è composta da tre lettere la Kaf la Lamed e la Yud che corrispondono alle iniziali di Kohen Levi Israel delle tre gerarchie del popolo di Israele il Kohen a livello più alto il Levi a livello medio e l'Israel il semplice ebreo a livello per così dire più basso è la stessa gerarchia con la quale veniamo chiamati a Sefer tutte le volte questo per dirci che cosa? che la gerarchia che in questo caso Kadosh Baruch Hu aveva stabilito era funzionale alla Kedushah del popolo di Israele e come tale doveva essere accettata e come tale doveva essere compresa quello che evidentemente Korach non era riuscito a fare che cosa appare interessante di questo commento dicevo che è un commento chassidico perché proprio i chassidim sono coloro all'interno del popolo ebraico per lo meno negli ultimi secoli che hanno insistito proprio sulla sull'esistenza di un carisma come si dice oggi di una Bechira da parte di Kadosh Baruch Hu nei confronti dei loro leader nei confronti del Rebbe in particolare è un modo di vedere le cose che non da tutti è condiviso ovviamente ma che certamente si riflette nel commento che abbiamo studiato e ci insegna anche che paradossalmente nel popolo del libro non necessariamente i meriti dello studio e dell'azione a questo livello sono ciò che caratterizza l'autorità esiste qualche cosa d'altro esiste la scelta da parte di Kadosh Baruch Hu tradotto in termini più concreti e più moderni se vogliamo che cosa ci insegna questo commento dello Sfat Emet alla Parashah di Korach ci insegna evidentemente che non tutto dipende dai nostri sforzi dobbiamo senz'altro sforzarci al massimo livello per arrivare ai migliori risultati però attenzione non tutto dipende da questo e non tutto deve dipendere da questo dobbiamo lasciare fare a Kadosh Baruch Hu sarà lui a scegliere le persone adatte a qualsiasi situazione e dobbiamo avere confidenza che lo faccia nel modo migliore esiste anche nella nostra cultura che è meritocratica per eccellenza un livello ulteriore che noi dobbiamo saper comprendere e dobbiamo saper accettare non basta il livello della leviyah dell'essere accompagnatori letteralmente la Kiddushah può avere un livello superiore non basta a volte la Kiddushah anche se dobbiamo esercitarla in tutti i modi l'avvicinamento degli altri di noi stessi alla Torah eccetera ma nello stesso tempo dobbiamo essere consapevoli dell'esistenza dicevo di un gradino più alto che è chiamato Bechirah che è chiamato scelta elezione e che è il vero artefice della Kiddushah quello che effettivamente fa scendere la Kiddushah sugli individui e sui gruppi e questo è appannaggio come dicevo di Kadosh Baruch Hu non cadiamo nell'errore di Korach sforziamoci per quello che possiamo naturalmente ma non stiamo ad aspettare a tutti i costi la risposta del successo ai nostri sforzi mi rendo conto che è un concetto difficile da introitare ma è fondamentale dobbiamo anche lasciare a Kadosh Baruch Hu la sua parte perché tutto sommato anche noi insieme a tutto quanto il mondo apparteniamo a lui vi ringrazio molto della vostra attenzione e ci rivediamo a Dio piacendo la prossima settimana ci sentiamo poi naturalmente anche per combinarvi grazie e buona serata a tutti e Shabbat Shalom Grazie Grazie Grazie